Iniziamo. Poi io direi di iniziare. Ok, perfetto. Per iniziare mi levo un attimo la maschera. Allora, buonasera a tutti. Siamo felici di aprire questo terzo incontro del ciclo dei dialoghi oltre il visibile con il nostro ospite di oggi che è Guglielmo Polloni. Con Guglielmo e con il suo intervento perché per i designer è importante diventare designer entriamo decisamente nel vivo della materia, diciamo, no? Perché abbiamo iniziato con un quadro generale offertoci sul tema del design dei servizi offertoci da Roberta e Agata nel primo incontro e poi siamo entrati in un tema un po' più generale, diciamo, con gli ospiti del secondo incontro e adesso sul tema appunto delle intelligenze artificiali, eccetera, e adesso entriamo nella pratica perché Guglielmo è appunto uno che pratica design dei servizi, fa parte di Social Seed, che è un laboratorio di innovazione sociale, Guglielmo forse lo possiamo definire così, non so, e fa parte anche di Sheetform e di altri gruppi che appunto lavorano direttamente con i cittadini, per i cittadini. ci siamo conosciuti un anno fa in un'esperienza con la scuola open source a Cerreto Sanita e ci siamo conosciuti direttamente facendo sul campo e ho avuto modo appunto di apprezzare le qualità di Guglielmo in questo senso e quindi con piacere gli lasciamo la parola e lo invitiamo a presentare il suo lavoro pratico e il suo contributo per il nostro ciclo di incontri. Come al solito, alla fine dell'incontro ci aspettiamo le vostre domande, i vostri interventi per rendere, diciamo, più condivisa la partecipazione. Grazie a Guglielmo di essere con noi e passo la parola. Non so se Luca e Gianni hanno qualcosa da aggiungere. Direi di capire se sono con un Guglielmo. Ok, grazie. Grazie a loro. Grazie mille anche a Raffaella, a Luca, a Gianni per l'invito. Prima di partire un piccolo esperimento, anzi un piccolo check-in per allinearci un pochino con la platea visto che non vi ho di fronte fisicamente e la presenza fisica permette anche di allineare, di cambiare un pochino il linguaggio nel momento in cui si va a presentare. Vi chiedo, se è possibile, nei prossimi due minuti, da una parte, chi può, che non è in un ambiente troppo sconcio, accendere la telecamera e far vedere proprio anche solo per due minuti il proprio volt, così almeno vi conosco. E poi in chat, se volete scrivere una parola sulle aspettative che avete per le prossime due ore. Quindi cosa vi aspettate di arrivare, con cosa vi aspettate di arrivare alla fine delle prossime due ore. Quindi facciamo partire i due minuti a partire, facciamo partire adesso. Se volete appunto accendere la telecamera, i presenti su Zoom, intendo ovviamente quelli su, immagino su YouTube sia un pochino più difficile. E se volete utilizzare la chat, proprio puoi scrivere una parola che condivide con me e con gli altri le aspettative per queste due ore. Prego. Ciao Miriam. Ciao Matilde, Danilo, ciao. Anna, Luca, Elisabetta. Mentre tutti entrano, visto che ho fatto una presentazione molto breve, volevo anche aggiungere che Guglielmo è un designer laureato al Politecnico di Milano, perché una cosa, Guglielmo, che i ragazzi chiedevano anche, soprattutto dopo il primo intervento di Roberta Tassi, era come si fa a diventare service designer, che cosa bisogna studiare, dove, come. E quindi ecco, volevo dire, anche questo, Guglielmo ha studiato appunto design al Politecnico di Milano, ha fatto una tesi design strategico e poi, diciamo, si è affinato questo percorso in design dei servizi, che non è comunque l'unico suo campo di attività, come adesso sentirete. Grazie mille Raffa, Raffaella, per l'introduzione, che mi ricorda anche appunto di quando mi sono laureato ormai 12 anni fa. Ok, perfetto, direi che possiamo allora iniziare e quando volete interrompetemi, perché il materiale preparato è abbastanza, spero di stare, cioè staremmo sicuramente dentro le due ore, ma vorrei stare anche dentro l'ora e mezza, in maniera tale da lasciare un venti minuti di condivisione, e anche perché sto diventando logorroico col passare degli anni. Ok, perfetto, quindi condivisione. Quindi partiamo da oggi, quindi nuovamente grazie per l'invito, è un piacere e un onore essere qui sia con i professori, ma anche e soprattutto con gli studenti. Oggi vi parlerò del perché per i designer è importante diventare policy designer, parlando un pochino di pratiche, di un percorso che stiamo sperimentando appunto sia con SocialSeed, che con ShiftOn, ma anche all'interno di Boundaryless. Anzi, nel frattempo approfitto e metto questa slide di presentazione. Perché appunto mi piace definirmi un po' un designer, imprenditore sociale. Designer, come designer appunto lavoro con SocialSeed, laboratorio di innovazione, come appunto giustamente detto Raffaella, e con ShiftOn, un'agenzia che si occupa di innovazione nei servizi e trasformazione digitale, ma non solo, come vedremo. E poi con Boundaryless, che è stata fondata dai creatori del Platform Design Toolkit, quindi un toolkit per disegnare strategie di piattaforma. Come imprenditore sociale invece ho cofondato SchoolRacing, quella che all'epoca e tuttora è la prima piattaforma italiana di crowdfunding per finanziare i progetti scolastici. Era il 2014, il crowdfunding era poco conosciuto tra i cittadini, immaginatevi nelle scuole. E poi Mitosis, che è un co-working e di recente anche un event space, basato a Berlino, da cui è stratta l'immagine che ho scelto come background di oggi. E questo è un pochino quello di cui parleremo oggi. Parleremo di policy design, del design come atto politico, citando Vincenzo Di Maria. E poi andremo direttamente sul policy design un pochino a parlare di quelli che sono, di quello che è la metodologia, gli strumenti finora utilizzati, alcuni degli strumenti finora utilizzati, poi alcuni casi studio e poi degli output sperimentali. E le ultime due righe sotto erano ancora gli appunti. Quindi, partiamo dal design come atto pratico, cioè Cuscat, al design come atto politico. Mi piace partire sempre dalle citazioni, perché ci sono fortunatamente persone che fanno cose, hanno iniziato a fare cose interessanti, importanti, prima di noi sempre, e fanno anche molto, molto, molto bene. Uno di questi è Cassi Robinson, che adesso lavora al... non è più diretto Rodot Everywhere, lavora appunto al National Lottery Community Fund, ma in verità lavora con un'associazione che si chiama The Catalyst, un'organizzazione che si chiama The Catalyst, che supporta gli enti del terzo settore in UK, quindi nel Regno Unito, nel innovarsi attraverso la digitalizzazione, nel lavorare in questo, hanno detto che non c'è bisogno solo di supportare la digitalizzazione di queste imprese, ma bisogna inserire questa digitalizzazione in un percorso più ampio, in un percorso che permetta alle imprese di essere resilienti, o meglio, come piace dire, come piace a molte persone dire, in questi anni, antifragili al cambiamento. Cioè vuol dire che non soltanto resilienti, vuol dire che arriva un cambiamento, ci scuote, ritorniamo uguali. Antifragili vuol dire che il cambiamento ci permette di evolvere, di crescere in qualche maniera, di migliorarci. Quindi l'accettazione di Cassi è quella appunto in cui dice che quando pensiamo a come internet sta cambiando la nostra società e dobbiamo pensare, la nostra società non possiamo più limitarci a pensare a risolvere i bisogni degli individui, come fino ad oggi abbiamo fatto quando applichiamo alla lettera, e poi ovviamente questo è anche l'invito che arriverà dopo, il design thinking, quindi ci concentriamo sui utenti, ci concentriamo sui bisogni degli utenti e quella è la nostra prima priorità, ma dobbiamo iniziare a pensare anche agli individui nel loro contesto. Per specificare ancora meglio questo, in un suo articolo appunto lei supporta questa affermazione attraverso questo disegno che ci permette di vedere come da una parte, dalla sinistra, ci concentriamo su user needs, vuol dire che lavoriamo per individui, per la solitudine, come poi dirà la citazione successiva che vi vado a presentare successivamente, dall'altra parte abbiamo in verità considerare anche i bisogni della collettività, quindi della community all'interno di quali gli individui stanno operando, per poi andare a pensare appunto ai bisogni della società, quelli che lei chiama moral needs, per esempio. Perché lei porta l'esempio, per esempio, di suo padre, dicendo se io progetto per i bisogni health di mio padre e senza dimenticandomi appunto di inserire questi bisogni nel contesto della società, può essere che alla fine finisco addirittura a fare il male di mio padre sul lungo periodo. Un'altra persona che mi va di citare è appunto Simone Cicero, creatore di Platform Design Toolkit e di Boundaryless, quindi collega anche, soprattutto, e lui appunto addirittura lo mette ancora in maniera ancora molto più provocatoria, dice che il customer user centric ha creato narrative di isolazione, nel senso che vediamo il nostro cliente, il nostro beneficiario, il nostro utente, a seconda di come lo, a seconda del contesto in cui lavoriamo, lo vediamo con entità isolate, quindi andiamo a risolvere il suo problema in modalità, in modalità isolate, isolandolo dal resto. Quindi creiamo questa relazione, questa, una narrativa che farà forzare una relazione tra impresa e utente, o impresa e beneficiario, il beneficiario resta un pochino, viene isolato rispetto agli altri. Infatti Simone, soprattutto quando, alla base, come uno dei pilastri del Platinum Design Thinking, parla di relationship center design, quindi lavoriamo sulle necessità delle relazioni, più che sulle necessità degli individui. e ovviamente no, sono veri entrambi, tutti, un po' tutti gli approcci e poi andremo a vedere il perché, però diciamo che questo sviluppo degli ultimi anni, dopo aver praticato molto e continuando a praticare molto il human center design e credendo, continuando a credere in questo, però mi ha fatto un pochino quello che è l'effetto Joker alla fine del, quando andiamo a vedere un pochino questo film al cinema, quando uscite dalle sale di questo cinema. Senza spoilerarlo, però diciamo che se all'inizio della nostra carriera come designer ci siamo sempre sentiti, siamo sempre creduti Batman, i supereroi che vanno ad aiutare, ad aiutare le persone in necessità, a un certo punto c'è un bellissimo pezzo di cui però non ricordo il riferimento, un bellissimo articolo in cui non ricordo il riferimento, però, che diceva in verità noi non siamo i Batman come designer, ma noi dobbiamo pensarci gli Alfred, i nostri utenti, i nostri beneficiari sono i Batman che devono risolvere il loro job to be done, diciamo, per parlare come viene definito. A un certo punto il dubbio è stato ma se fossimo invece dei Joker, se in voce stessimo minando la società con un lavoro così human center design fatto, e per questo ripercorriamo anche velocemente chi siamo come service designer, diciamo che come designer molto più in generale, diciamo che quello che accomuna tutte le discipline o almeno quello che dal dal mio punto di vista e non solo accomuna tutte le discipline del design che vanno dal graphic design al service design, strategic design, policy design, sono tre super power del designer o delle designer stesse. e il primo è quello del vedere, quindi riuscire a interpretare la realtà individuando bisogni reali, bisogni che vanno al di là di quelli che sono la punta dell'iceberg dei bisogni, opportunità o pattern e sui pattern ci focalizzeremo anche più avanti. L'altra capacità è quella del prevedere, quindi costruire possibili scenari futuri e vedere come questi vanno a interagire e l'altra parte poi è il far vedere, quindi riuscire a dialogare, a creare dialoghi e dialogare con una molteplicità di saperi progettuali ma anche con una molteplicità di differenti stakeholder e di differenti registri comunicativi. Noi imparciamo solo all'interno con un, per esempio, blueprint del servizio come in questo esempio su cui abbiamo lavorato ormai tanti anni fa per l'Umaus che è un luogo di innovazione basato a Madrid. Ma lavoriamo ovviamente anche per il pubblico ma poi lavoriamo anche per i finanziatori, quindi investitori, questo. Riusciremo con diversi registri e quindi dobbiamo anche riuscire a far vedere e a priorizzare il valore che portiamo a tutti. Quindi queste sono le tre capacità da cui possiamo creare il minimo comune multiplo. Senza ovviamente menzionare il Rima Center Design e ovviamente l'iterazione continua che sono un pochino alla base ma penso che vi abbiano, sono sicuro che vi abbiano già presentato gli altri approcci al design. Il carissimo amico Vincenzo Di Maria, parlando appunto il designer oltre appunto a quello che già conosciamo dei designer dice anche che il design è un atto politico. Sa noi progettisti scegliere ogni giorno da che parte vogliamo stare. Quindi progettare significa saper decidere e ovviamente Vincenzo dice io ho scelto le persone, le persone come appunto persone all'interno di relazione sapendo come lavora appunto Vincenzo. Questo fatto del design autopolitico vuol dire che ogni scelta progettuale che noi andiamo a fare ha delle conseguenze su un contesto e se da una parte abbiamo un momento di divergenza nel processo del design quindi sappiamo che non sia un punto divergenza creare scelte e convergenza fare scelte se nella divergenza il suggerimento è quello di mettere in stand by il giudizio e quindi mettere in stand by anche la le scelte il come la propria persona le nostre scelte possano andare a influenzare il progetto nella convergenza però dobbiamo iniziare a metterlo e dire che il design è un atto politico è una cosa relativamente semplice e scontata ma l'affermarlo senza ovviamente togliere nulla l'affermazione di Vincenzo però diciamo che l'affermarlo ci deve far più che altro investire delle responsabilità di questo atto politico quindi non possiamo più andare a dire eh lo voleva l'utente perché poi appunto non stiamo considerando appunto il design come atto politico spero che fino a qui di aver almeno un pochino provocato e da designer a policy design quindi cosa vuol dire questo questo processo da designer appunto a policy design e perché il policy design non vuol dire lavorare nella politica ma vuol dire appunto un approccio diciamo più sistemico alla materia del design prima di tutto focalizziamoci un attimo sul processo questo conosciamo tutti bene il double diamond del design council poi ripreso da mille diverse agenzie hackerato in tutte le varie maniere possibili sono diventati da due diamanti sono diventati tre diamanti in alcuni casi altre volte decerchi eccetera eccetera la cosa che ci interessa qui e che volevo sottolineare qui è quello che vi ho appena detto il design del double diamond è focalizzato nell'iterazione del divergere e convergere quindi divergenza creare scelte convergenza fare scelte è stessa cosa sia nella parte di ricerca quindi find the right problem sia nella parte di elaborazione della soluzione dei delivery e appunto quando parliamo appunto quando pensiamo al design come atto politico il consiglio almeno quello che su cui si riflette appunto di utilizzarlo sicuramente nella convergenza e poi nell'erogazione della soluzione che poi un po' come Manzini prima di tutti ma altri dicono quella soluzione non è ferma lì quella soluzione poi si va si va a lavorare questa soluzione oggigiorno soprattutto quando lavoriamo nei servizi non è buona fatta la soluzione finita no la soluzione continua ad evolvere perché perché stesso il servizio è un artefatto che va a influenzare le persone le relazioni di queste persone e quindi deve riuscire a restare aggiornato su questo stessa cosa per portare avanti poi il pensiero se prendiamo una delle ultime versioni del double diamond del design council sempre stiamo parlando sempre del Regno Unito e sempre il design come atto politico lo possiamo applicare appunto non solo sulla parte di convergenza e sugli outcome ma anche sui design principle quindi come andiamo ad hackerare a modificare o quali principi andiamo ad aggiungere ma è poi nelle metodologie andiamo a vedere passiamo partiamo dai dai principle e prima di tutto policy design quando è iniziato tra l'altro l'aneddoto del policy design è che come mi sono approcciato un po' al policy design è che in verità con con social seed the shift tone e con boundary e in altre esperienze stiamo già da molto tempo stiamo parlando e stiamo facendo praticando il design strategico in qualche maniera stiamo andando già da molto tempo appunto al di là del del service design però diciamo una volta leggendo un articolo che parlava di di Luigi Covolo che un policy designer e si definiva policy designer pugliese nonché fondatore dell'ex pad e nonché ex assessore a brindisi per se non sbaglio lo sviluppo economico e ugualmente nella sua definizione di policy design ho letto Roberto si Roberto Covolo scusate prima Luigi Roberto si definisce policy designer voglio farlo anche io su policy designer allora ho iniziato anche a investigare questo fatto e capire un pochino cosa già si fosse sviluppato rispetto a questo questo è un po' l'aneddoto stupido della cosa quindi andando un pochino a investigare la definizione sul quale mi sono ritrovato un pochino di più è il policy design che comporta appunto lo sforzo di sviluppare in modo più o meno sistematico politiche efficienti ed efficaci attraverso l'applicazione di conoscenze e strumenti acquisiti con l'esperienza al fine di promuovere l'adozione di linee d'azione che possano riuscire ad aggiungere degli obiettivi desiderati all'interno di specifici contesti politici qua all'interno possiamo già vedere un sacco di punti che si accendono quando pensiamo da una parte al design thinking e dall'altra parte al design sistemico che andremo a definire più avanti meglio ancora sono queste otto caratteristiche che vanno a declinare quanto ho scritto quanto ho scritto prima fra l'altro otto caratteristiche riprendo la source che non è segnata qui no, non mi sono dimenticato di scriverne anche negli appunti poi più avanti vi condivido la fonte delle otto caratteristiche anche se sono state un pochino rimaneggiate diciamo quindi le otto caratteristiche del politico design da una parte si parte da una intenzione spesso risposta a una specifica situazione problematica che coinvolge determinati attori ci ricordiamo il community needs o il moral needs di Cassie Robinson e oltre ovviamente all'individual needs che non ce la dobbiamo dimenticare non è che switchando al relationship center design switchando al policy design dobbiamo dimenticare gli utenti altrimenti falliamo e ritorniamo andiamo indietro invece di andare avanti poi ha come obiettivo il cambiamento il policy design si confronta con situazioni complesse e incerte come del resto tutto il design e perché appunto viviamo nella complessità e nell'incertitudine bisogna soltanto accettare questo fatto abbracciare la complessità abbracciare il caos e d'altra parte poi subisce modifica le relazioni sociali tra molti e diversi attori quinto punto siamo su richiede una forte conoscenza degli avvenimenti passati di quelli presenti e di quelli futuri qui non è che possiamo capitare in una situazione fare il nostro intervento di design poi saltare fuori altrimenti semplicemente non abbiamo non siamo molto non rischiamo di non attacchire su quello che c'è non per forza è negativo però diciamo che c'è molto rischio di fallimento e di scalfire la superficie se si è fortunati rispetto a creare un vero cambiamento o a meno innestare un vero cambiamento poi produce artefatti che intervengono nel mondo reale per portare al cambiamento questi artefatti possono essere servizi possono essere politiche possono essere linee guida alcuni di questi andremo a vedere è sempre in beta monitorare le relazioni scatenate quindi dagli artefatti e poi è un processo partecipato ma è anche una storia collettiva questo va a sottolineare quello di cui si parla molto dal inizio 2020 o fine 2019 fino ad oggi che è il processo di sense making quindi un po' un termine hype in questo momento però c'è sempre stato quindi creare senso rispetto a quello che è il processo partecipato in qualche maniera in maniera tale appunto da tirar fuori una storia collettiva i principi scusate i principi del policy design almeno per ora in questo processo della ricerca perché è una ricerca ongoing che prende lavori passati e li applica anche a rivoli presenti e futuri e alla base dei principi appunto c'è un approccio sistemico quindi quello che prende radici dal systemic design systemic change o le altre varie terminologie che vanno le varie termini che vanno a definire questo l'approccio sistemico anche qui vediamo se sono stato bravo segnato sotto la fonte no ho copiato le slide senza la fonte bravissimo con quello che si può recuperare lo posso recuperare poi in bibliografia e quindi approccio sistemico perché pensare in maniera sistemica prima di tutto per puntare al benessere diffuso e non alla sola emissione compiuta e qui cito direttamente l'articolo che trovate sulla vostra destra di Mashable che dice che dopo se conoscete il progetto One Laptop Per Child che voleva portare appunto e ha portato un laptop per 2,5 milioni di bambini in alcune regioni africane e dopo aver lanciato questo progetto dopo aver consegnato tutti i laptop a distanza se non mi sbaglio di 5 anni nel momento stesso in cui sono andati a dire ok qual è stato il miglioramento nell'istruzione degli studenti che hanno lavorato con questi computer hanno scoperto che l'incremento il miglioramento è stato zero nullo e si sono chiesti come mai è stato nullo questo incremento semplicemente almeno così dice Mashable e alcune altre ricerche correlate semplicemente perché hanno distribuito i computer dimenticandosi di dire agli insegnanti come modificare la propria didattica una volta che c'è questo computer nelle aule quindi l'effetto è stato o computer accantonato oppure computer oppure gli insegnanti che non sappiano appunto come riuscire a valorizzare questo questo strumento questo hardware e qui nuovamente se la missione computer era 2,5 milioni di laptop per child beh la missione computer abbatti 5 però il benessere diffuso non è stato raggiunto in questo senso perché pensare in maniera sistemica poi per lavorare sui pattern e non solo sui problemi quindi questo anche vuol dire non pensare soltanto ai need ma pensare ai need nella propria community nella propria società sempre citando che sia all'inizio per sbloccare il cambiamento invece di imporlo molto più efficace non riuscire a sbloccare il cambiamento rendere gli stakeholder gli attori del nostro ecosistema agenti del cambiamento invece di andare a imporre il cambiamento uno ad uno e poi per essere in grado di adattarci e non di seguire la tabella di marcia abbiamo detto no già complessità e incertezza non possiamo appunto settare non possiamo prepararci a una tabella di marcia rigida perché altrimenti alla prima pandemia questo scoppia e non sappiamo più come andare avanti e lavorare sui pattern vi porto inizio un pochino con alcune citazioni di lavori di altre persone molto 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 brave alla Stair Parvin che è CEO ad Open System Lab prima ancora è stato fondatore di Wikihouse questo modello per riuscire a costruire case realizzando nelle Fab Lab a poco prezzo e con un sistema open source e lavorando in Open Systems Lab al tema dell'abitazione e porta questa storia dove sono messi a lavorare sulle cause d'effetto sui vari elementi che abitano che compongono diciamo l'ecosistema dell'housing della vivienda come si dice dell'abitare e dopodiché hanno preso questa mappa che vedete in alto a sinistra l'hanno girata nell'altro senso e hanno lavorato in un sistema di causa-effetto quindi se qui sono delle relazioni tra vari elementi dopodiché questi elementi li hanno cercati di mettere in un rapporto di causa-effetto lavorando in questo rapporto di causa-effetto sono riusciti a individuare vedete qui i rossi sono quelli che fanno che fanno link che sono collegati al bisogno primo cioè che sono collegati con meno gradi di divisione a un bisogno primo sono riusciti a individuare il primo bisogno e poi quindi a capire che questa è la loro priorità di incisione di andare a su cui andare a lavorare mentre questi qua sono i punti su cui questo elemento va a influire in questa maniera capiamo che non andremo a focalizzarci sui need o su un più che need su un aspetto di questa mappa ma se andiamo a focalizzarci su questo aspetto abbiamo più possibilità di andare a cambiare attivare un cambiamento all'interno del all'interno di tutto l'ecosistema secondo me qui sono stato più bravo neanche non so perché ragazzi scusate ho copiato le slide da un punto ovviamente da altre presentazioni esate in passato ma dove non c'erano le citazioni e che questo poi finirà in bibliografia sbloccare il cambiamento qui si prendiamo spunto dalla politica però per poi finire in un esempio molto più design old school e da una parte lavoriamo sull'overtone window l'overtone window è un qualcosa è questo diciamo questo pattern questo processo che ci permette di far accettare dalla maggioranza da una maggioranza di popolazione dei scenari che fino ad oggi sono reputati appunto nel unthinkable dei scenari diciamo radicali e questo è stato utilizzato molto spesso in passato soprattutto dalle politiche di destra recentemente anche dalle politiche di sinistra ed è interessante perché appunto riuscendo a lavorare su scenari più estremi riesce a spostare più in là la famosa freccettina nel senso lo scenario più estremo riuscendo a lavorarlo e visualizzarlo riesce a far diventare radical e poi pian piano creando un altro ancora unthinkable quello che era radical diventa acceptable eccetera eccetera fino a finire in questo spettro politico della popolarità quindi del maggiormente accettato questo se è vero che si riflette sulla politica in verità si riflette anche su tutto il nostro lavoro e appunto il design l'esempio old school lo riprendo dalla famosa da un percorso che fece Renault quando uscì con la Megane penso la Megane 2 e prima ancora uscì che era quella macchina con la Megane tutta squadrata avete presente quella un pochino strana se la Renault fosse uscita con la Megane 2 da un momento all'altro quindi dal Megane 1 alla Megane 2 senza prima passare per l'avantime e un altro modello che non mi ricordo adesso come si chiama sarebbe stato un avrebbe sarebbe attirata tutte le critiche anche di quelli del campo invece cosa fece la Renault prima di tutto ovviamente portò un prototipo come si fa in questo campo nei saloni dell'auto per dire ok questo è quel concept a cui stiamo pensando macchine squadrate dopodiché creò questa avantime che era disruptive che era quasi unthinkable in qualsiasi maniera sicuramente radicale perché non era altro che un monovolume coupé costoso cioè quelle cose che insieme fino all'epoca non è che ti piglia molto bene tra l'altro sarebbe l'unica automobile penso che potrei comprare in questo momento usata ovviamente perché non è più prodotta e l'avantime non fece questa grandissima popolarità ma quello che fece si fu di spostare i gusti di spostare questo Overton Windham vesto questi gusti squadrati permettendo di creare il campo per la Megane 2 diventare un qualcosa di diciamo che si distinguesse dalle altre macchine rispetto alla Megane 1 che non si distingueva neanche da nulla e in maniera tale appunto di giocare in questa maniera competitiva quindi vedete che perché il designer deve pensare come policy designer questo anche vediamo un pochino come funziona e stiamo parlando di tempi in cui il design thinking a stento veniva studiato a Stanford e per essere in grado di adattarci qui ritiriamo sempre fuori Cassie Robinson che poi cita a sua volta il Berkana Two Loops Model questo qui è un processo appunto per innestare il cambiamento ecco qui The Catalyst dove lavora adesso Cassie Robinson appunto qui dice era stato originariamente creato come un modo per migliorare le capacità digitali 40.000 enti del terzo settore dell'Unito ma ora lavora per sostenere i settori nel suo complesso per adattarsi continuamente diventare più responsabili nei confronti delle comunità e lavorare insieme per insieme meglio per coloro che serve questa è la traduzione veloce dall'inglese Cassie cita il Berkana Two Loops Model che è un modello per andare a portare il cambiamento in un sistema molto stantio quindi c'è un dominant system qua in alto sotto ogni dominant system ci sono dei pionieri quindi per esempio uno degli esempi più classici è quello del petrolio cioè siamo nell'era del petrolio stiamo andando già un pochino più verso avanti verso la parte siamo sicuramente nell'era della stabilizzazione siamo però andando verso questa parte qui dell'hospice work fino ad avere questo dominant system che collassa e muore sotto questo dominant system ci sono già però dei pionieri questi pionieri che si dice se lavoriamo più che Cassie il Berkana Two Loops Model dice se noi lavoriamo per connettere questi pionieri e quindi costruire un network dopodiché formiamo delle comunità di pratica di questi pionieri nel momento stesso in cui c'è questa parte di calata del sistema dominante dall'altra parte iniziamo a avere del edge cases quindi smart practices che poi vanno a infilarsi in questo momento di transizione verso il nuovo sistema di influenza in questa maniera quindi lavorare adesso per avere i risultati più avanti ma soprattutto anche lavorare adesso per creare dei pattern che ci permettono di come si dice di adattarci ai cambiamenti controllo l'ora ok ci siamo per ora metodi qui iniziamo un pochino ad entrare nell'esperienza appunto personale questo il metodo in beta l'ultima volta raffigurato vedete appunto questo doppio diamante perché non ci stanchiamo mai di divergere e convergere e l'ultima volta che ci è capitato di raffigurarlo e metterlo in line è stato durante la summer school arena a Matera uno degli ultimi incontri fatti tra un'onda pandemica e l'altra però appunto lì abbiamo sintetizzato un processo che abbiamo già portato avanti in altri progetti che poi vi mostro però la parte interessante qui è un pochino che si inizia a vedere un minimo di struttura appunto il metodo ongoing in beta e come per ora abbiamo lavorato il metodo su cui per ora abbiamo lavorato con le diverse realtà in diverse realtà quando si parla appunto di policy design è sempre partire da una sfida questo un po' perché ormai ce l'ho tatuato tipo sul braccio senza una sfida non riesco ovviamente a fare un passo senza identificare una sfida soprattutto quando siamo un gruppo di lavoro quindi senza avere chiaro l'obiettivo principale priorizzare dopodiché per esempio in questo caso abbiamo lavorato per interviste basate sulla appreciative inquiry in maniera tale da andare a vedere individuali i macro trend i segnali deboli in questo caso quindi andare ad esplorare il contesto andare ad esplorare la comunità su cui stiamo lavorando in maniera tale da identificare i segnali deboli della comunità e dei need personali e i macro trend della comunità però più verso la società quindi i moral issues e questo attraverso l'utilizzo di strumenti che vi faccio vedere dopo di polarità ci permettono di identificare dei scenari in questo caso erano sette anche perché sette erano i team di lavoro e da questi scenari poi siamo andati in divergenza creando più narrative una narrativa per ciascuno scenario e la narrativa è interessante ma la vediamo dopo quindi ve lo racconto dopo comunque interessante perché è una comunicazione aperta quindi non mette un punto ma apre la narrativa mentre la storia invece mette un punto un po' più chiude in questo caso e questa narrativa questa narrativa abbiamo detto abbiamo creato un pochino una mappa sistemica quindi capire quali sono gli attori in questo caso più degli attori del sistema se non ricordo male però quali sono gli attori coinvolti e poi li abbiamo messi in una matrice una stakeholder matrix per andare a capire appunto quali di questi attori sono favorevoli a questa narrativa al cambiamento portato avanti a questa narrativa quali quelli invece che sono un pochino scettici e quali invece che sono gli seguitori non perché ci siamo buoni e cattivi ma semplicemente perché stiamo andando a cambiare a portare un cambiamento e a parte situazioni da shock come raccontano Amy Klein Naomi Klein molto spesso portare il cambiamento è una pratica molto difficile c'è sempre resistenza ma più o meno per creare gli artefatti che vanno se non altro che sono un altro punto che poi va a portare una divergenza perché saremo sempre in beta continua gli artefatti non sono il punto finale ma sono il punto iniziale di interazione con il nostro contesto e strumenti legati a questi alcuni di quelli utilizzati per esempio abbiamo la Preciative Inquiry e qui riporto un tool ormai progettato penso fosse nel 2015 o 16 con Somosmas quando lavoravo con Somosmas che è appunto un tool per disegnare delle interviste basate sulla Preciative Inquiry Preciative Inquiry è un processo in quattro step noi utilizzavamo i primi step sulla storia passata e sul dream e che in quel caso appunto ci ha permesso e in altri casi in cui l'abbiamo utilizzato ci ha permesso di far emergere appunto dei scenari in uno degli esempi che vi porterò più avanti in uno dei casi studio che vi porterò più avanti dalle interviste basate sulla Preciative Inquiry dai scenari abbiamo poi tirato fuori un form un intervista diciamo quantitativa in maniera tale da andare a creare una priorità sui scenari però emersi dalla Preciative Inquiry a Preciative perché lavora sullo positivo poi polarità sono gli strumenti utilizzati per prendere decisioni in gruppo ma soprattutto far emergere anche le differenze perché anche soprattutto le differenze escono le cose più interessanti e queste sono le polarità su un altro progetto che stiamo portando avanti di cui non vi racconterò molto però fa vedere un pochino dove i partecipanti si erano posizionati all'interno da un estremo all'altro e comunque come si può vedere stiamo parlando di healthcare e di e di management e di organizational design e poi il gruppo tartaruga che erano queste tre sigle sono andate da queste polarità a esprimere un pochino cosa significa che a tradurre queste polarità perché ci sono un gruppo di tre da quella parte e un gruppo di cinque dall'altra altro strumento messo in campo la matrice di stakeholder di cui abbiamo già parlato come qui appunto vedete la influenza un'asse Y sull'influenza un'asse X sull'essere favorevoli al cambiamento quindi facilitano bloccano il cambiamento e poi qui abbiamo appunto degli alleati in maniera tale di poter identificare gli alleati quali sono gli entusiasti gli scettici e poi gli inseguitori e tanti altri strumenti di cui questo di cui sono abbastanza felice soddisfatto siamo ancora testando in alcuni laboratori ma per ora da dei buoni risultati che dice che dalla matrice di prima invece di lavorare singolarmente su un alleato per dargli più potere più potere decisionale o su un entusiasta per aumentare per esempio la sua influenza perché non andiamo a lavorare nelle relazioni quindi come facciamo a far sì che l'alleato dia forza all'entusiasta come facciamo come facciamo sì che l'alleato convinca lo scettico e lo porta ad essere alleato eccetera eccetera questi alcuni strumenti ma come sempre ovviamente sono tantissimi gli strumenti molti si possono pescare dal toolbox del design thinking altri dal toolbox del systemic design ed altri dai vari toolbox vari compreso ovviamente il design strategico eccetera eccetera alcuni output quindi cosa cosa genera questo e qui abbiamo l'affondo sulla sulla narrativa cosa interessante anche se andiamo a vedere narrative design anche questo appunto viene fuori da un un lavoro sempre di ricerca che parte dal google per poi incontrare vari testi narrative design è sempre collegato molto spesso è collegato scusate al gaming al game design e lo vediamo adesso più avanti il perché e quindi narrative design è usato appunto nei videogame nello sviluppo dei videogame per descrivere quanto sono interattive interactive stories come to like quindi come storie interattive prendono forma descrive il lavoro che gli autori di come gli autori creano un nuovo mondo e le regole insite a questo mondo detto in altre forme più interessanti John Huggel fra i tanti parla appunto di narrative distinguendoli rispetto alle storie dove se le storie sono qualcosa di self-contained dice John Huggel dove c'è un inizio una metà un climax una fine e soprattutto la fine di queste storie non dipende da noi ma dipende dai protagonisti di queste storie le narrative sono open-ended quindi non c'è nessuna soluzione quindi questo vuol dire che da una parte sono opportunity quindi sono un luogo di opportunità per quelle persone chiamate all'azione in questa narrativa dall'altra parte se il buon fine di questa narrativa finirà bene o male la risoluzione di questa narrativa sarà up to you quindi l'ascoltatore il lettore è chiamato all'azione quindi nelle storie il lettore è chiamato a riflettere sulla storia di altri protagonisti nella narrativa se non intervengo questa cosa qui rischia di non finire bene in questo caso semplificando al massimo storie questa può essere la la metafora per una storia quindi abbiamo questa è una storia di per sé scusate quindi abbiamo un cane abbiamo una persona che gli fa una fotografia da una finestra e il cane guarda verso il mare mentre è seduto su un'amaca dentro la casa questa qui è più una narrativa quindi abbiamo l'amaca il tramonto quello che succede lì se qui si andrà a finire una bellissima cosa o una tragedia dipende non tanto dal fatto che una balena sbuccherà da quel mare ma dipende da te come riuscirai appunto a interagire con gli elementi che ci sono in questo panorama differenza tra storia e narrativa ovviamente come in tutte le cose le differenze sono sempre labili l'interessante questo questo riferimento visivo perché da una parte appunto ci parla di books dove c'è un'idea che va over the time un'idea una storia che va over the time l'altra parte ci parla di movies dove le esperienze sensoriali aumentano perché si aggiungono nuove dimensioni che non sono altro che quella auditiva e visiva in questo momento fino ad oggi e poi ci sono le parti del game dove alle due dimensioni si appunto inserisce l'interattività narrative design vuol dire riuscire a disegnare su tutti e tre gli assi proprio per questo appunto designer relative qui non abbiamo otto punti ma ne abbiamo dieci in verità non andrei troppo sui dieci punti perché non vorrei spendere più di tanto tempo su questa parte qui però appunto li avete li avete qui e poi sempre in bibliografia vi passerò da dove li ho presi solo per mia curiosità personale vediamo ah qui qui nel caso abbiamo giusto perché finalmente ho trovato uno slide dove c'è la dove c'è ok vi ho inviato poi vedo che già c'è qualcosa di di cui si parla quindi poi prendiamo anche semmai gli interventi che sono sempre super interessanti e disegnare narrative quindi per ora diciamo che in un pattern super aperto di sperimentazione la narrativa ad oggi nella maniera più semplice è una call to action andremo a vedere poi gli esempi nella maniera più complessa e sono gli scenari del di un game di un gioco come si chiamano di un gioco da console però diciamo che devono avere sempre queste tre le prime tre punti e poi il quarto è un punto più scelta personale scelta politica che porta avanti e che poi svilupperò vi approfondirò più avanti dunque i tre punti sono l'opportunità quindi la narrativa di essere in grado di ispirare e motivare i gruppi di attori identificati quindi di ispirare i gruppi a cui vi state rileggendo le persone a cui vi state rileggendo di ispirarle e motivarle di ispirarle a motivarle qui c'è un'opportunità se entri nella mia narrativa se vieni con me se adotti questa narrativa se inizi a giocare a interagire nel mondo che ti ho creato è un'emozione quindi in modo di essere in grado di creare relazioni a lungo termine la narrativa non si può esaurire nel consumo ma deve essere una relazione che ritorna per avanti cioè non è che consumo via ciak ho fatto no deve essere qualcosa che creare avanti e il fatto che tu continui a interagire nella narrativa che ti ho creato aumenta il valore stesso della narrativa questo prende molto dal platform design thinking e poi apertura e apertura le idee e attività portate dalle persone ingaggiate e qui visto che ho appena menzionato citando il platform design thinking questo è un po' uno dei principi che viene tradotto in disegnare per la disobbedienza quindi non dobbiamo disegnare narrative troppo strette ma dobbiamo far sì che appunto ci siano attività e idee portate anche delle persone che abbiamo ingaggiate che vadano a modificare o a più che modificare la narrativa ad arricchire la narrativa questo mondo che abbiamo creato e poi se la narrativa fa leva o allevia le ansietà e le paure quindi se fa leva su o allevia le ansietà e le paure questo però andiamo a vedere dopo perché appunto qui è un distinguo tra narrative positive e narrative negative ma lo vediamo dopo esempio di narrativa semplice Airbnb offri un'esperienza online unisci da una community di host che crea legami in tutto il mondo in un modo completamente nuovo quindi in queste due frasi soprattutto la seconda in queste due righe ti ho già iniziato a descrivere qual è il mondo nel quale ti chiedo di entrare stessa cosa ma con diverso medium è su Airbnb for work quindi sentiti a casa ovunque ti porti il lavoro poi se cliccate sul video guarda i video di Airbnb for work vedete per esempio del parte che potrei anche farlo vedere vabbè lo vediamo più avanti ci vediamo lo vedete poi fa vedere una serie di scene dove non c'è un unico protagonista ma ci sono tante persone che cambiano in diversi contesti per darti appunto l'idea di questo mondo al quale puoi accedere una volta che entri nel una volta che aggiungi il tuo indirizzo email di lavoro per iniziare e qui alcuni casi più italiani quindi tra far parte del Talent Guardian Innovation School anche qui c'è un quadro di descrizione della school e cosa appunto qual è il mondo al quale puoi accedere e poi qui uno degli esempi su cui approfondiremo uno dei corsi studios per esempio è quello degli Adriano Community Days due giorni di festa di incontri sperimentazioni condivisi in cui il quartiere Adriano di Milano si anima grazie a un calendario collettivo di eventi e iniziative proposte dal basso trasformiamo il quartiere Adriano in una comunità di persone che progettano insieme si conoscono si aprono nuove conoscenze una festa da vivere progettare insieme l'occasione per lasciarci stupire al potere delle comunità quando abbiamo scritto questo in Adriano Community Days sto fatto alla narrativa non avevamo ancora approfondita quindi la stiamo vedendo anche al a ritroso in questo caso in caso di reverse engineering quasi ok altri output che escono quindi da un processo di policy design esce da una parte una narrativa perché appunto dobbiamo innescare un cambiamento dobbiamo definire il cambiamento e dobbiamo soprattutto mobilitare abilitare persone a muoversi per quel cambiamento d'altra parte escono degli artefatti che possono essere attività servizi campagne di comunicazione politiche eccetera eccetera e qui la citazione va a prendere due ospiti di quello che fu un percorso che risale credo ormai al 2013 molto tempo fa Next Rieti che si svolgeva appunto a Rieti per andare a individuare come riuscire a rigenerare uno spazio industriale di arqueologia industriale presente nel centro di Rieti e due interventi interessanti che si rivolgono appunto che fanno capire un pochino il concetto di artefatti anche se abbastanza penso comprensibili uno è l'intervento di Vincenzo Zappino progettista strategico che dice che nel momento in cui vogliamo appunto attivare un cambiamento dobbiamo trovare una semiglia detonante quindi gli artefatti sono un pochino i detonatori in questo caso ci sono delle piante di queste sono ricordo il nome che per esempio nel momento stesso in cui vengono semplicemente sfiorate sbocciano e spargono insieme il più lungo possibile il passaggio su quelle piante è quello che dobbiamo fare noi quindi riuscire a far esplodere queste piatte volevo portarvi il video però poi pensavo che fosse esagerato e poi se no l'intervento di Anima Redelia che non è stato il padre ma sicuramente il padrigno di alcune politiche della regione Puglia che iniziano da principi attivi a bollenti spiriti politiche fra l'altro fra le quali penso che anche la scuola open source dove ci siamo conosciuti con Raffaella viene nel figlio e Anima Redelia racconta appunto di quando vogliamo costruire una casa non è che iniziamo dalle fondamenta perché prende tanto ma iniziamo dal comignolo dal comignolo quindi iniziamo dal comignolo una volta finito il comignolo diciamo dai non è pochissimale forse siamo in grado di costruire anche il resto della casa quindi artefatti sono quei comignoli è inutile andare a costruire delle case nel momento stesso in cui si parla di policy design perché nuovamente siamo nel complesso e nel mincerto stiamo progettando qualcosa di partecipato quindi iniziare subito a costruire le fondamenta vuol dire che nel momento stesso in cui arriva il prossimo climate change andiamo ad essere appunto i nostri fondamenta vanno ad essere inutilizzati inutili il modello di governance è un altro elemento che esce fuori un altro output perché appunto perché nell'incertezza nella complessità ma soprattutto l'incertezza dobbiamo rendere dobbiamo prendere dobbiamo recuperare un modello un framework decisionale di operatività che ci permetta appunto di portare avanti gli artefatti imparare degli artefatti migliorarli svilupparne dei nuovi prendere delle decisioni vedere se stiamo andando verso la nostra narrativa qui porto solamente due schemini perché dai lavori che stiamo portando avanti questo è l'elemento un pochino più sensibile quindi non troppo condivisibile per questo momento però esempi sono Holocacy è un modello appunto di governance dove che permette una struttura flessibile dell'organizzazione flessibile nuove modalità di rituali nei meeting e più autonomia dei team individui e cosa simile invece sulla sinistra abbiamo il modello di Inspiral Foundation che se non conoscete e vi sta interessando il topic vi consiglio di andare a vedere Working Together appunto non mi ricordo cosa però Working Together Inspiral Foundation e troverete appunto un piccolo manuale sull'esperienza dell'Espiral di questo gruppo diffuso di Inspiral dell'Espiral Network ok io inizierei forse con i casi studio forse possiamo anche prendere l'opportunità per vedere se ci sono delle domande già fuori spero di imparare qualcosa di più di design vedere se mi può interessare come ambito questa Teresa grazie questa mi piacerebbe questa ok si vuole un po' di design ma non mi può dire poi da finché ok perfetto allora Margherita adesso ti rispondo con i prossimi casi studio pensate con alcuni esempi di questa pratica ok perfetto quindi adesso vi porto un paio di esempi dal personale anche se alcuni spero ne siano già emersi come l'ultimo appunto a come l'ultimo di l'ultimo di animale dell'ira mi sono dimenticato l'appunto il punto più interessante che principi attivi e volenti spiriti sono stati un percorso dove si andavano a finanziare delle imprese culturali a fondo perduto con dei fondi che se non ricordo male andavano tra i 20 30 mila euro e l'output principale di di questo di questo programma erano sicuramente la creazione di impresa però l'outcome quindi risultato maggior prioritario era quello di permettere a delle generazioni di avere spazio per fallire e imparare dal fallimento fallire e succedere e avere successo dal fallimento infatti se non sbaglio la percentuale di fallimento è abbastanza alta che in verità non è abbastanza alta perché è nella norma di queste dovrebbe essere un 70-30 quindi 70% di fallimento però ha permesso a delle generazioni pugliesi appunto di migliorarsi di imparare dei nuovi strumenti imparare a collaborare insieme ha creato una generazione molto promettente un articolo ah è vero che avevamo già condiviso degli articoli grazie ok allora mi fermo due secondi sulla domanda di Laura Broniera se voglia Laura anche di accendere il microfono e farla deviso così salve io purtroppo sarei a lezione non potrei parlare purtroppo quindi potrei solo condividere piano perché i miei compagni stanno lavorando di conseguenza sarei tanto di disturbo per i miei compagni ecco cioè se vuole gliela faccio però non so dopo se professore no dai vai allora leggo leggo dal leggiamo grazie mille scusi il disturbo figurati tranquillo nella giornata 4 immaginare a cuore viene illustrato il termine community organizer non so se viene illustrato da da noi come come social seed su cui comunque lavoriamo o se era un argomento di qualcun altro mi sembra che fosse un argomento di qualcun altro quindi da lì ti devo rimandare in verità alla bibliografia penso forse era di Davide Agazzi forse era l'intervento di Davide Agazzi però diciamo che il community organizer così come stiamo lavorando su cui ci stiamo lavorando in social seed è anche un pochino uno del uno o una degli attori principali di queste di portare avanti queste pratiche di cambiamento quindi il community organizer può essere all'interno del nostro modello di governance perché il community organizer perché appunto in questo lavoro di cambiamento portato avanti da artefatti verso una narrativa la comunità e la cura dell'erazione e il lavoro per pratiche e quindi anche i risultati di questo lavoro per pratiche che questo implica ha bisogno appunto valorizzano appunto quello che è la figura di un community organizer quindi una persona che organizza la comunità gestisce la comunità fa crescere la comunità stessa in questo in questo modo vediamo se viene fuori secondo me anche il ruolo dell'organizer nei casi studio e verrà fuori nei casi studio più avanti che forse riesce a rendere un pochino più concreto dopo questa prima spiegazione più teorica e poi così Laura mi dirai volentieri se devo approfondire o meno primo esempio Iris cooperativa del Bimercatese con Iris abbiamo portato avanti un processo che si chiamava il servizio di assistenza educativa scolastica quindi quella di educatori come nel caso di Alessandro che appunto affiancano minori nelle scuole con disabilità certificate e il servizio di assistenza educativa scolastica da erogazione a co-design e questo era il sottotitolo ovviamente non applicava questo qui è stato il processo veloce che abbiamo il percorso veloce che abbiamo veloce il percorso che abbiamo disegnato per riuscire nella sfida che non c'è ok la sfida era quella di andare a ridisegnare se non mi sbaglio ok andare a ridisegnare il servizio in maniera tale che andasse a valorizzare le competenze usando veramente a memoria perché era molto tempo fa comunque le competenze di chi fa degli operatori dei cooperanti della cooperativa AES della cooperativa AERIS e andando a ah no ok scusate ecco cos'era la sfida era portare le pratiche e gli strumenti dell'assistenza educativa scolastica all'interno come plus value come valore aggiunto del sistema scolastico del V-mercatese più o meno questo detto anche la parte di sfida che vi posso riportare avevo un percorso di kick off quindi alla presentazione alle reti quindi al contesto agli attori intervista degli attori e survey quello che vi dicevo prima quindi prima intervistiamo capiamo quali sono i scenari le cose su cui possiamo fare leva poi facciamo un survey vediamo come va a finire quali sono le priorità poi raccolte informazioni utili per definire il lab poi c'è un momento di definizione delle sottosfie del lab abbiamo un laboratorio di co-design di tre punti e poi un elemento di validazione con il pubblico che è stato un barcamp e poi in questo momento siamo in questa fase qui che è stata rallentata dal momento covid perché immaginate che c'è stato nel settore nel ecosistema c'è stato un momento di shock su questo e quindi un momento di cambiamento delle priorità più sull'emergenziale e la fase 1 di esplorazione appunto ha visto le varie interviste da ogni intervista che aveva uno script abbiamo tirato fuori dei come si chiama un harvest quindi abbiamo tirato fuori degli elementi che ci interessavano e abbiamo anche utilizzato ovviamente delle figure per andare a identificare le persone intervistate poi cambiato i nomi in maniera tale da mantenere un minimo di privacy e tra l'altro nota carina queste qui sono le figure di un gioco family land realizzato da delle amiche di Berlino sul concetto di famiglia giusto nota di colore e anche di dove si può andare a creare collaborazione e questo qui è un pochino il vedere che ha partecipato dei 220 risposte sono state tipo di cui appunto un po' questi sono i profili genitori docenti educatori eccetera eccetera quindi anche un bel pubblico ampio che ha partecipato non alle interviste che erano queste quindi saranno state 3, 2, 5, 4 una ventina di interviste sono di più sì per queste 5 per 3 15 comunque una ventina e passa ma soprattutto che ha partecipato al form al questionario che era un questionario di validazione diciamo che dagli elementi emersi da queste interviste appunto c'è stato un momento in cui abbiamo chiesto a questo pubblico vario e differente qual è lo scenario che preferiresti quali sono i bisogni quali sono le cose che tu potresti mettere a disposizione fra quelle emerse dalle interviste ovviamente lasciando anche il campo per aggiungere in modo tale da andare a valorizzare quanto è emerso dal qualitativo per poi andare a validarlo con il quantitativo da lì è iniziato il laboratorio di coprogettazione qui vedete per esempio in questo particolare lo strumento delle polarità usato anche in questo caso per esempio e questo qui è stato il percorso del laboratorio come vedete il divergere e il convergere ce l'abbiamo ovunque da appunto la sottosfida del laboratorio al posizionamento sullo scenario questo è un termometro la scuola del futuro quindi questa è la realizzazione dello scenario qui la mappa sistemica gli elementi bloccanti elementi abilitanti possibili soluzioni e poi le azioni concrete da tutto questo percorso è emerso anche un manifesto che è stato poi validato il manifesto del nuovo AES ci immaginiamo che questo momento sarà composto appunto da principi guida dello scenario una serie di azioni concrete da mettere in campo nell'ottica di realizzazione dei principi guida queste varie attività sono state poi validate durante un momento di Barcamp Barcamp è stato un evento dove hanno partecipato non più di 100 persone perché lo spazio ne poteva contenere 99 e che è stato realizzato il sabato mattina e dar ha tirato la ha fatto l'overbooking diciamo nel senso che hanno partecipato tutte le persone che potevano partecipare in termini di numero e la cosa interessante tra le varie cose interessanti di questo Barcamp oltre un Barcamp funziona che non c'è un'agenda principalmente c'è una struttura c'è un framework che i contenuti di questo framework vengono portati dai partecipanti quindi c'è stato questo momento di introduzione del percorso c'è stata una call to action dicendo ok su cosa volete lavorare portate voi l'agenda qui per esempio in basso a destra c'è uno delle partecipanti che dice qual è la sua idea per l'agenda quindi cosa sta proponendo poi divisione in vari gruppi in varie sessioni se non ricordo ce n'erano dieci quindi cinque in parallelo nella prima parte della mattinata e cinque nella seconda parte della mattinata che si erano posizionati nei vari momenti della stanza parlando Lavagnina Harvest di quello che si stava dicendo e soprattutto la cosa interessante è che a parte appunto i risultati i complimenti che abbiamo ricevuto come squadra di lavoro non solo con Social Seed con cui abbiamo portato avanti questo percorso ma anche come Social Seed più i cooperatori di Iris che abilitavano questo percorso in questo senso come coprogettisti perché appunto è stato un spazio di condivisione di buone pratiche che già ci sono all'interno della scuola all'interno della scuola e confronto su queste e poi anche una cosa simpatica è stata appunto che almeno una decina 15 anni di persone sono arrivate la mattina dicendo a noi e altri collaboratori comunque io poi alle 12 devo andare sai devo cucinare per la famiglia eccetera eccetera se in 100 abbiamo iniziato in 100 abbiamo finito poi queste persone sono riuscite a far cucinare probabilmente qualcun altro con la famiglia ed è un bel risultato quando sei in un contesto scuola e stai chiedendo tempo volontario alle persone che erano sia genitori di bambini con disabilità certificate sia insegnanti sia AES quindi assistenza educativa scolastica sia insegnanti di sostegno ed avevamo anche se non mi ricordo male un assessore un assessore di uno dei comuni coinvolti o forse due e questo perché policy design? Vediamo vari punti ovviamente in comune rispetto a quello che vi ho raccontato prima altrimenti non avrebbe avuto senso ovviamente portarlo come esempio e uno di questi controllo il tempo ok uno di questi è lo scenario che va a creare una narrativa nel senso il manifesto è la nostra narrativa e gli scenari sono quelli che abbiamo individuato durante il percorso le azioni concrete sono gli artefatti e il primo artefatto primo è appunto il barcamp il barcamp che ha permesso di andare a modificare le relazioni è un'attività che poi da lì ha creato una community che nelle giorni nelle settimane nei mesi successivi è andata a chiedere ai copromotori del barcamp dicendo cosa succede adesso quando è che ci possiamo rincontrare quali sono i passaggi successivi si è creata una community che veniva pensata come dormiente in qualche maniera adesso esagerando enfatizzando community dormiente però neanche neanche troppo dopodiché in questi principalmente voglio sottolineare questi due punti principali rispetto al caso studio quando si parla di community organizer appunto qui il community organizer è quello che è la figura che manca per esempio che sarebbe stata la figura giusta nel post barcamp a dire ok ragazzi è creato abbiamo aggregato una comunità perché i community non si creano ma si trovano si individuano e poi si crescono si nutrono appunto c'è anche la metafora del giardiniere di comunità abbiamo aggregato questa comunità andiamo a curarla organizzarla in maniera tale appunto da farla crescere e farla fiorire però qui eravamo a gennaio 2020 quindi immaginate cosa è successo dopo Adriano Community Center questo è un altro progetto interessante poi è stato avanti con ShiftOn con cliente Proges che è una grande cooperativa e di persone anche molto in gamba non mi ricordo mai se i soci e i lavoratori della cooperativa sono 4.000 8.000 questo è un mio problema però diciamo che è una cooperativa in Italia relativamente grande e importante che è andata a chiederci di supportarli nell'immaginale alla riqualificazione dell'ex edificio RSA nel quartiere Adriano che sarebbe diventato un RSA appunto chiamato Adriano Community Center perché nel momento stesso in cui è stato recuperato questo edificio da un'asta fallimentare o comunque un processo di fallimento per questo si chiama ex edificio RSA si chiama ex RSA ancora prima di essere un RSA c'era nel clausere del comune il fatto di attivare un punto di comunità all'interno di questo spazio quello che abbiamo fatto con loro ovviamente qui l'abbiamo la sfida ce l'abbiamo è come possiamo generare un impatto sociale in grado di attrarre la comunità locale attorno all'Adriano Community Center questo è stato il primo passaggio di un percorso dove appunto ho avuto un momento di interviste e un momento di ricerca sulle best practice e poi un momento di workshop strategico dove appunto si sono andati a progettare strumenti decisionali e poi un qualcosa di sintesi che è il project workbook da cui sono estratte queste slide a un certo punto fra le interviste e il workshop strategico siamo riusciti a individuare un pochino cosa significa all'interno del quartiere questo ex RSA questo quindi enorme edificio non ancora finito e all'epoca non avevano ancora avviato i lavori di ristrutturazione che hanno avviato dopo poco ed oggi momentaneamente tra l'altro se questa è pubblica per aver finito sul giornale è un ospedale covid in questo momento e comunque questa è tutta la storia del quartiere siamo andati un pochino a mapparla a capire quali sono i sentimenti del quartiere per inserirci all'interno del quartiere per capire dove stiamo andando a progettare per conoscere il passato il presente e il futuro quindi comprese anche le aspettative e un pochino come il punto il punto nodale nella mappa che vi ho fatto vedere prima sull'housing abbiamo trovato appunto questa comunità del quartiere cavorie di riscatto come un punto centrale nodale di questo contesto l'impianto strategico appunto questa è un po' una narrativa che inizialmente era interna poi pian piano abbiamo sviluppato come esterna però questa è una narrativa che dice da colpo strategico estraneo enorme un culibere una balena che viene guardato con un misto di speranza e sospetto opportunità per smuovere l'ecosistema attuale e dare spazio a nuovi e diversi scenari e su questa base che possiamo costituire una strategia di attivazione delle relazioni seguendo il processo scritto nei paragrafi seguenti questo diciamo che è la sintesi della narrativa che poi abbiamo portato avanti con con l'Adriano community center e come vedete anche nel linguaggio è abbastanza una sintesi abbastanza narrativa abbastanza interna che poi abbiamo tradotto appunto in altri scenari questi sono alcuni degli strumenti come si diceva quando si diceva modello di governance questo è uno strumento di governance nel momento stesso in cui si mappano degli attori li si mettono li si inseriscono all'interno di una mappa che ci permette di capire quali sono quali ruoli possiamo dare agli attori attivati e questo è l'impianto strategico che poi questo qui è un percorso che è iniziato nel 2018 credo o questo forse il workbook all'età del 2000 early 2019 quindi gennaio 2019 faceva freddo ed eravamo a Bologna quando l'abbiamo presentato quindi sicuramente era inverno e quindi un impianto strategico che vede una call to action una valutazione questa valutazione quindi nel senso una selezione di quello che si raccoglie questa selezione ci permette di mappare gli attivatori del territorio gli attori del territorio le iniziative del territorio i bisogni del territorio e poi coproduzione coprodurre di progettualità temporanea e progettualità a lungo termine e questo poi va a alimentare lo schemino che si ripete andando a nutrire quindi questo è una specie di modello di governance questo stesso uno degli output di cui parlavamo parlavamo prima il primo questo è un focus sulla matrice strategica questo forse è stato l'unico strumento che poi non è stato veramente utilizzato però è stato un bel passaggio significativo il risultato di tutto questo è stato una prima ritorniamo lo schemino una prima call to action con una valutazione sì di progetti delle progettualità temporali talmente temporali che sono avvenite in un in due giornate in un weekend adesso condivido anche l'audio spero che poi si veda anche bene fatemi dei segni nel caso si veda male e così dura quattro minuti approfitto per far vedere il video forse è alto sia per andare a bere a tempo a di a 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 Grazie a tutti 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 Super interessante Grazie a tutti 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 E a tutti Grazie 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 a tutti